Ha aperto le porte Pani e Peschi la nuova casa per adolescenti milanesi che soffrono di disturbi psichiatrici. Si tratta di una struttura riabilitativa terapeutica di neuropsichiatria per minori e che potrà ospitare fino a 10 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Lo stabile che ospita la comunità si trova nel quartiere Gallaratese, zona nord-ovest di Milano. La struttura è gestita dalla cooperativa Filo d'Arianna che è una cooperativa sociale nata in seno alla Caritas Ambrosiana. È una cooperativa che da anni è impegnata nell'ambito di strutture accreditate, strutture residenziali ma anche centri diurni per diverse fasce di utenza. Da qualche anno a questa parte siamo impegnati direttamente nell'ambito della neuropsichiatria infantile con attività di centri diurni o attività domiciliari in caso di acuzze psichiatriche. Da pochi mesi siamo impegnati anche con una struttura residenziale di neuropsichiatria infantile accreditata con l'ATS, città metropolitana di Milano. E quindi in questa struttura chi trova ospitalità e accoglienza? È una struttura per ragazzi maschi e femmine, età dai 14 ai 17 anni. Tutti i ragazzi hanno un'unità operativa di neuropsichiatria infantile che li ha presi in carico magari da tempo. Questa unità operativa ritiene poi a un certo punto opportuno, necessario, a volte addirittura urgente il collocamento di questa persona all'interno di una struttura residenziale, terapeutica appunto in collaborazione, che continui poi a collaborare con la neuropsichiatria infantile. La comunità che diventa proprio uno strumento terapeutico di cura per questi ragazzi. Nello specifico che tipo di cura viene proposta loro? Sono ragazzi prima di tutto che soffrono un grave disagio a livello psichico per via di un contesto d'apprendimento, di un contesto familiare magari inadeguato o carente o anche per problematiche sorte nel corso degli anni e dovute non necessariamente alla famiglia. È la comunità, è lo stare insieme di questi ragazzi, insieme degli adulti che sono operatori, terapisti di riabilitazione, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili. È questo loro stare insieme e svolgere delle attività previste dal loro piano terapeutico e riabilitativo che fa sì che si possano trovare alternative a determinati comportamenti disfunzionali, aiuti e sostegni alle famiglie che possono apprendere determinate modalità relazionali diverse che non creino più degli inneschi o delle situazioni di pericolo a livello di disagio psichico dei ragazzi. Anche c'è quello che cerchiamo di fare per i ragazzi un po' più grandi, verso i 16 anni, anche percorsi che proiettino questi ragazzi verso un'autonomia sociale. Grazie a tutti.